Alberto, si chiude un'altra edizione, si chiude con tanta stanchezza, proprio tanta forza che si è messa in un'edizione che ha dovuto scavallare il 2020, però il pubblico che alla fine c'è stato anche se all'inizio c'erano dei posti vuoti perché si pensava ad un 75%, ma quante cose avete dovuto sotturare nelle ultime ore? Per dirle in francese è stato un casino terribile e poi nell'ultima settimana quando è stato lunedì ci hanno aperto al 100% il teatro e noi veniamo da 5 sold out e quindi stasera non abbiamo fatto sold out ma ci siamo andati vicino lo stesso, vuol dire che la gente aspettava di fuori sperando di avere un posto e l'ha trovato, non abbiamo proprio riempito tutto il teatro perché bisogna dare anche il tempo alla gente di saperlo e di prendere il coraggio in mano e di venire perché poi siamo stati abituati negli ultimi due anni a stare chiusi in casa, questa è la verità. Poi ci sono tanti altri problemi, sono i problemi organizzativi, le restrizioni covid, le cose che non puoi fare per forza, ma al di là di questo c'è molta voglia di tornare a suonare per la gente, molta voglia di far sentire le proprie canzoni e questi ragazzi sono spettacolari, abbiamo 4 big incredibili, uno più bravo dell'altro, uno più leggenda dell'altro, sono proprio 4 leggende e la cosa bella è che quando li abbiamo chiamati tutti e 4 sono stati tutti contenti e hanno accettato immediatamente, è una cosa che mi fa molto piacere che vuol dire che il personaggetto qua vuol dire che qualcosa di buono nella vita l'ha lasciato. Guarda, non ti farei nessun'altra domanda perché hai detto tutto, il personaggetto di cui parli era un mio grande amico, come sai, e quindi lui ha lasciato quello che visibilmente non si vedeva, proprio non si testava, però la gente l'ha ricevuto e l'ha avuto dentro e non solo in questa occasione vengono poi fuori queste cose. Sì, io credo che abbia seminato molto bene e nonostante il fatto che sono passati quasi 20 anni perché questo è il diciannovesimo anno, la gente lo ama tanto ancora, questo significa avere lasciato nel cuore della gente qualcosa di importante e allora questa cosa fa sì che se tu sei più grande di quello che viene dopo, gli fai sentire uno che ne vale la pena di sentire perché ha detto delle cose importanti anche per te e questa è la differenza secondo me grossa. Roby, un premio che si avvicina al tuo barra vostro modo di pensare? Beh, insomma un premio molto prestigioso che mi gratifica veramente tantissimo, questo è veramente un bel premio, sono felicissimo di essere qui, veramente felicissimo. Cosa vuol dire aggiungere dei premi di questo genere di una manifestazione che sta crescendo molto per uno che dei premi, permettimi di dirlo, ne ha avuti tantissimi? Io ho sempre amato ricevere i premi perché, non lo so, nelle sicurezze che uno può avere, e io ne ho insomma di sicurezza, il premio è una sicurezza perché mi dico, se mi danno il premio ci sarà pure una ragione, no? E questo, il premio Bertoli è un premio fra l'altro molto molto prestigioso per cui mi rende doppiamente felice. Tu hai dei ricordi di Pierangelo? Sì, perché noi siamo nati, insomma abbiamo avuto la stessa, abbiamo fatto parte della stessa scuderia della CGD e ci si incontrava al bar della CGD spesse volte e ci siamo fermati anche a chiacchierare un po' e devo dire che si faceva riconoscere subito, no? Grazie veramente al suo modo di esprimersi, molto schietto, proprio emiliano vero e lo era non solo nelle canzoni, lo era anche a livello sociale e questo è sempre stata la sua grande forza. Ma c'ha qualcosa di lui Alberto? Beh, Alberto, a parte che gli assomiglia, no? Gli assomiglia veramente tantissimo, beh, gli ha dato il DNA dell'arte perché è un artista, oggi abbiamo cantato insieme e devo dire che veramente ha una voce pazzesca e una sensibilità particolare per cui io credo che dal papà lui abbia preso tanto, ma un poco, veramente tanto. Maria Tonietta, una cantante visibilmente fragile e semplice come te e il premio del premio Bertoli 221 a Muso Duro, che connubio c'è? Beh, direi che è il connubio che mi rappresenta di più, un mix di, giustamente come dicevi tu, anche di fragilità e di strafottenza perché dentro di me ci sono entrambe queste cose, penso che in realtà in genere la fragilità sia qualcosa di un po' sottovalutato, dentro la fragilità di solito c'è sempre una grande forza in realtà, le due cose vanno sempre molto insieme di pari passo, sai chi è molto sensibile ha sempre anche molte risorse e penso di averle in generale. Soprattutto nelle donne questo? Sì, penso avvenga in tutti gli esseri umani, però sicuramente a volte c'è forse un po' un preconcetto, uno stereotipo di così, una femminilità sempre associata per forza di cose a una fragilità che è un limite, invece io penso che la sensibilità in generale sia appunto sempre una risorsa che ti permette poi di ribaltare le situazioni, di dare una prospettiva sempre anche nuova se vuoi alla vita che fai, alle cose che fai e quindi insomma non mi piacciono gli stereotipi in generale. La canzone di questa sera che hai cantato, Vergine, fa parte di un tuo segno zodiacale o la nascita è diversa? In realtà è il mio segno zodiacale, però è stato puro caso, puro caso, sì mi sono accorta dopo della coincidenza, sì è un brano che sta nel mio ultimo disco che è Deluderti, lo stesso un disco apparentemente sai con un titolo così Deluderti sembra un disco un po' che parla di fragilità, in realtà parla di spavalderia perché sai quando uno si prende la libertà di poter deludere gli altri con consapevolezza se vuoi, no? Cioè di rispettare se stesso, ecco a quel punto lì diventa diventa una forza anche saper deludere gli altri.